Buongiorno signori, vi avevamo promesso un ombrello speciale e l'abbiamo fatto. Dopo l'ombrello montato sul bambù intero, che già è una cosa impossibile, che mai nessuno ne aveva fatto, abbiamo creato l'ombrello coperto da pelle nappa di solofra. Abbiamo fatto anche un nastrino con doppio cinturino. Quindi è un ombrello spettacolare, fatto con lo stesso materiale che si fanno i trench. E l'abbiamo montato su un legno di icori canadese e tigrato, tutto un pezzo, tutto un trucco. Un tale di vero collo. Insomma, è un ombrello di lusso, veramente un ombrello di lusso. Un ombrello di lusso, veramente un ombrello di lusso.